I cittadini, la Camera vuole trasparenza? Sì, è la prima volta che alla Camera viene introdotto un codice di condotta, quindi questa è una novità assoluta. Attraverso questo codice i deputati dovranno dichiarare i propri interessi economici e finanziari, dovranno anche dichiarare gli incarichi extraparlamentari, non solo assunti prima di diventare deputati, ma anche assunti dopo. E poi dovranno rimuovere ogni situazione di conflitto di interesse. Accanto a questo c'è anche l'obbligo di non prendere regali, doni, di un valore superiore a 250 euro. Ecco, quindi io penso che in questo modo noi vogliamo dare delle regole molto chiare e vogliamo andare proprio verso un indirizzo di trasparenza sempre più affermato in questa Camera. Non ci fermeremo qui, perché abbiamo già convocato la Giunta per il 26 e in quell'occasione noi, mi auguro, porteremo in votazione anche la regolamentazione delle attività di lobbying all'interno di Montecitorio. In un momento in cui si parla molto di lobbisti, credo che anche questo sia un passaggio importante per questa Camera. Ma ieri sono state anche approvate...